non sembra volersi placare la rivolta esplosa negli ultimi giorni contro lorenzo spolverato dove l'hashtag cancelletto fuori lorenzo è in tendenza su x ex twitter ormai da oltre 48 ore il modello milanese non fa nulla per placare l'ira degli utenti anzi con le sue ultime uscite ha contribuito a gettare ulteriore benzina sul fuoco durante un confronto con shayla gatta dal quale ne è scaturita una nuova litigata tra i due gfini lorenzo si è lasciato andare ad alcune affermazioni decisamente discutibili dovevi vedermi nelle mie ex relazioni che animale che ero sto facendo anche io dei passi non pensare che io sia fatto e finito ho un cervello sì ma non sono fatto e finito ed è strano anche che in due litigate non ti ho insultata è molto strano è ma non lo voglio fare perché tu non sai le parole che io posso pensare in una frazione di secondo sarebbe brutto la reazione dei telespettatori che paura mi raccomando romanticizzate anche questo lui sta dicendo una cavolata dietro l'altra impossibile giustificarlo lei dovrebbe pure ringraziarlo per questa cosa penso che abbia bisogno d'aiuto la squalifica se la sta proprio cercando è stupido a dire queste cose gli animali non sono come lui questi dialoghi andrebbero censurati perché sono messaggi negativi per chi sta fuori e lei lo ascolta anche intanto sui social c'è chi invoca la squalifica di lorenzo al riguardo agent beast profilo x che svela dei retroscena sul grande fratello ha rivelato che entro 48 ore potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare comportamento considerato irrispettoso o lesivo nei confronti degli altri concorrenti valutazione su lorenzo entro 48 ore intervento di alfonso signorini queste le prime indiscrezioni